Sono contento di essere tornato, ho tante emozioni positive, un po' di delusione, ma come ho detto appunto le emozioni positive prevalgono in questo momento. Sì, resterò con Ambry e giocerò stasera. Ma un po' me l'aspettavo quando sono arrivato là, so che era dura e comunque era già pianificato nel contratto, nel caso non fosse funzionata là, sarei tornato qua. Quindi appunto arrivo qui, ma sono consapevole che è stata un'avventura che mi ha aiutato e appunto sono contento di essere qua. Sì, devo concentrarmi, devo fare tutto in fretta, devo essere pronto a giocare.